ragazzi benvenuti in questo nuovo video essi sto usando il condizionatore in modo inverso ma prima la sigla condizionatore argo clima fa anche da deumidificatore in inverno per riscaldare un ambiente un piccolo ambiente si può anche deumidificare la stanza non eccessivamente altrimenti avremo la bocca secca in questo caso non c'è il tubo per deumidificatore perché è acceso solo per fare il video allora praticamente come funziona si dovrebbe usare con la parte avanti che butta l'aria dentro la stanza ma facendo in questo modo si aumenta tantissimo l'efficienza praticamente sto buttando fuori l'area fredda del condizionatore quindi io avrò solo l'area di entrata e l'area di uscita e questo fuori senza problemi l'unica cosa che non bisogna tenere acceso tantissimo perché altrimenti vi secca l'area funziona io avevo 18 gradi una mezz'oretta fa anche meno quindi promosso ovviamente non è non si distribuisce per niente un riscaldamento a gas come i termosifoni e cose del genere però per le piccole stanze va più che bene io ho letto su internet alcune cose alcuni dicevano di mettere lui fuori con il tubo che va dentro ci ho messo chi mi sono detto che effettivamente è una bagianata meglio questo anche perché altrimenti si rovina il condizionatore se non sapete altro voi scrivetelo nell'informazione praticamente questo è un grandissimo pezzotto di un inverter inverter sarebbe il se non erro se non erro il condizionatore climatizzato che ti permette anche di riscaldare volendo si può anche attaccare il tubo qui questo e metterlo che lo butta più in altezza uomo in modo che l'area calda che esce da qui non venga aspirata da qui e quindi in questo caso in questo caso in questo metodo si può anche aumentare il rendimento ancora di più se vi è piaciuto il video lasciate un like come vi dite e grazie